Bisogna imparare ad essere interi, ecco, interi, del tutto lì, lì, in tutto e per tutto, per lei, per lui. Io ho visto fin da bambino, quando Antonino era piccolo, così, ho visto cose che non avrei voluto vedere, diciamo, nella coppia, no, così, dei genitori. Mi accorgo adesso, sto facendo una specie di seduta psicologica, mi accorgo di essere, mi leva l'aria, mi accorgo di essere, che questo tema è al centro di tutta la mia storia, di tutta la mia vicenda, forse non solo mia. Nel 90% dei casi si perde poesia nella relazione, quella poesia che invece dovrebbe essere, farla da protagonista, dovrebbe continuare quello che è partito all'inizio, che noi non possiamo lanciare fuori dalla finestra, non possiamo buttare nella discarica. Cioè le coppie buttano nella discarica tutta la parte più preziosa e potente che li ha generati. La coppia è stata generata da quello che avete visto all'inizio, da quell'armonia, da quella musica, da quella metrica, da quel ritmo, capite? La si butta sottovalutando il fattore inquinante, sottovalutando una parola che cambia, una parola. Cioè ospitando parole che non erano presenti nelle prime ore, nei primi giorni, ospitando giudizi interni, anche non comunicati, che non erano presenti in quel momento perché noi vedevamo la bellezza di lei, vedevamo la bellezza di noi, vedevamo la bellezza di ora e del futuro e questa bellezza noi l'abbiamo, abbiamo spaccato uno specchio, abbiamo frantumato un disegno, un mosaico, l'abbiamo disperso tutti i pezzi che conteneva. Li do il consiglio perché io so esattamente quello che serve. Ma lo so esattamente, non mi dite adesso presuntuoso, vi diranno sei presuntuoso. Ma no, io lo so perché ho cercato tanto, io ho cercato tanto fuori dai libri, capisci? Ho cercato, ho verificato, sono andato fino a dove zampilla il veleno, capisci? Se io non vedi il buco da cui zampilla il veleno che macchia la sorgente, lì in quella torrente iniziale, in quel ruscello torrente iniziale non ci sarà vita. Per cui io so che non c'è, non si può fare nessun compromesso, capisci? O l'acqua torna pulita e allora merita di proseguire questa storia, oppure possiamo decidere tante cose sul piano materiale, anche non separarci fisicamente, non è il punto, la questione non è quella. Ma noi dobbiamo tornare a una purezza o individuale e personale, o a una purezza di entrambi e poi della nostra relazione, capisci? Purezza, purezza, non c'è bisogno di dire tante cose. Quello che accade è la magia iniziale, quindi viene chiamata magia iniziale. Adesso sintetizzando dovremmo dire, attento, nella storia che sta partendo, o che è partita, o che è andata avanti, o sembra stia rallentando, o sembra stia barcollando, o sembra stia morendo, devi sapere che questa storia è nata con la potenza di essere immortale, infinita. Dipende solo se ti lasci avvelenare da sciocchezzuole, così che ti hanno soltanto distratto, illuso. Diciamo quindi, tu devi scegliere se credere a una storia, e credere significa mettere da parte, mi capite, cellulari, mettere da parte chat, mettere da parte letture, filmati, più o meno sexy, mettere da parte perché se non dai tutto te stesso, tutto, molto di te stesso, poi chiaro lo diamo al resto, lo diamo ai figli, poi lo diamo non so agli amici, poi lo diamo allo sport, poi lo diamo al lavoro, poi lo diamo all'invenzione, poi lo inventiamo, poi lo diamo che vogliamo dare tutto quello che possediamo a tutti, a tutti, però con lei, con lui, interi, quando siamo lì. Bisogna imparare ad essere interi, ecco, interi, del tutto lì, lì, in tutto e per tutto, per lei, per lui. Ti posso dire una cosa, che a me personalmente, una frase detta male, mi fa star male 24 ore, a me personalmente, male, io lo accetto questo male, io non mi voglio separare da questo dolore, io non sminuisco, né esalto, perché noi per diventare, diciamo, per crescere, per svilupparci bene, per aumentare la nostra armonia, e anche la nostra energia, anche la nostra indipendenza, anche la nostra positività, queste vanno tutte insieme, queste cose, o prendi il pacchetto intero, oppure non lo prendi, o indebolici tutto, o rafforzi tutto. Allora, una frase disgraziata, una frase offensiva, lascia un eco che deve esserci dentro l'anima, perché se la natura te lo lascia, deve esserci l'eco dentro l'anima, che ti manda a letto presto, ti fa dormire magari più a lungo, e ti fa sentire il bisogno di ranicchiarti, isolarti, tornare nel tuo intimo, riposarti, recuperare, tornare intero, ma da solo. Io avevo un sogno nel passato, che non so mai se si realizzerà, oppure se si sta realizzando, non me ne accorgo, non so perché. Il sogno mio era la scuola dell'uomo, l'uomo che imparava, che acquisiva, attraverso dei sentieri, dei percorsi, degli itinerari, dei curricula, dei corridoi che doveva attraversare, e imparare delle cose. Forse sta iniziando ad accadere proprio in questo canale, dove io, da quello che le persone mi dicono, capisco che stanno salendo. Anche della gratitudine che esprimono alcuni, altri magari non la esprimeranno, invece esprimetela perché mi date forza, mi date forza. Antonino, Antonino si rallegra quando voi siete contenti, e se mi date segno della vostra contentezza, si rallegra e prende energia. Sai, come si fa a mantenere ordinata una stanza non mettendola in disordine? Prima. E mi viene questa immagine. Allora, se io imparo a, non so, dovreste vedere come io piego i maglioni, e come tengo i maglioni, le cose, e come tengo anche così, in generale le cose. Non sono un ossessivo dell'ordine esteriore, non sono schiavo, perché dipende dal tempo che ho, capisci, ma poi soprattutto, io sono preciso nel rispettare qualunque oggetto, non so se, non è tanto che devo essere maniaco di tutto, certo un po' d'armonia, la devo vedere, la devo vedere. Allora voglio dire che la cosa più bella, in una coppia, la cosa più facile da fare, è non rovinare all'inizio, capisci? non cominciare a rovinare. Vedi, la lingua italiana ha un'espressione, la lingua italiana, insomma, tanta roba, notevole. Io, signori, io ho molti dizionari della lingua italiana, uno di questi è mostruoso, 25 volumi di questa dimensione. Ci sono tutte le parole della lingua italiana, dalla storia del loro impiego, a tutti i luoghi più importanti in cui sono state impiegate, collezionate lì dentro. Poi c'è un altro più piccolino, sette volumi, Tullio De Mauro, un genio della, Tullio De Mauro, un grande della linguistica italiana, così. Io amo le parole. Allora noi abbiamo un'espressione che dice mandare in rovina, lasciare che cada in rovina. la coppia non può cadere in rovina. Se cade in rovina la coppia, diciamo, una parte dell'ombra raggiungerà i figli. Quei figli che, non vorrei dire, io non lo auguro a nessuno, ma questo è il motivo più bello, più importante, per cui dobbiamo, dobbiamo, vediamo la parola dovere, però non va tanto d'accordo con la preservare, fare prevenzione della incontaminazione di una coppia. La coppia deve rimanere perfetta, come all'inizio, così. Allora io vi faccio tanti auguri, cercate di estrarre queste goccioline, queste piccole gocce che stanno dentro questo filmato, per farvi delle domande. Queste domande poi mandatele anche ad Antonino. Più scrivete, più vi scrivo, più vi scrivete, più vi scrivo, con domande. Le domande poi sono per me irresistibili. Scriviamo, o faremo addirittura un film sulle vostre domande. Capisci? Scrivete. 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 Scrivete.